Il sindaco di Pescara Carlo Masci, in seguito alla decisione del Tar, che come noto ha ordinato di ricontare le schede in 100 sezioni su 174, ha scritto una lettera agli elettori e ha risposto ai rappresentanti delle forze di opposizione. Carlo Masci è stato rieletto sindaco al primo turno, lo ricordiamo, lo scorso giugno, con il 50,95% dei voti contro il 34,24% di Carlo Costantini del centro-sinistra, il 13,8% di Domenico Pettinari e l'1,73% di Gianluca Fusilli. Nella lettera a sfogo, inviata ai suoi elettori via WhatsApp, il primo cittadino rivendica la vittoria e afferma che la giurisprudenza del Consiglio di Stato è granitica nel ritenere che gli errori formali non possono mai condizionare le espressioni di voto dei cittadini, però non posso accettare a cuor leggero, afferma Masci, ciò che stiamo subendo. Il paradosso in questa vicenda è che i cittadini hanno espresso il loro voto in favore della mia persona come sindaco, assegnandomi una vittoria indiscutibile sul piano numerico. Ma chi è uscito sconfitto pesantemente dal voto popolare cerca di inficiarlo con una contestazione a rivolte ai pubblici uffici nominati dalla Corte d'Appello. Masci si dice comunque tranquillo sull'esito di questa vicenda e conclude, spinto sempre dall'amore per Pescara, non nasconde una certa amarezza perché una cosa deve essere chiara. I veri danneggiati in questa vicenda saremmo io, la maggioranza eletta per governare la città ed i cittadini che ci hanno votato, non certo coloro che sono stati bocciati dagli elettori. La nostra forza sono proprio i voti, il distacco indiscutibile rispetto a Costantini, Pettinari e Fusilli.